Perché è così lontano? Vuole che ci stringiamo un po'? Tente di avere freddo? Ce n'è una sola. Quando vuole. Quando vuole. Buongiorno a tutti e benvenuti a questo incontro del trentesimo meeting per l'amicizia tra i popoli che ha per titolo La verità chiede di essere conosciuta che è l'ultima fatica di sua eminenza il cardinale Carlo Caffara, arcivescovo di Bologna e di Alessandra Borghese che esce proprio in questi giorni per l'editore Rizzoli. Un dialogo a tutto campo sui grandi temi che interessano, agitano, muovono il cuore, il desiderio, le attese, la ragione dell'uomo e quindi di ciascuno di noi. Ed è un dialogo a cui sua eminenza non si è sottratto. Nessuna delle domande che Alessandra gli ha rivolto sono state in qualche modo censurate, rimosse, diminuite nella portata di interrogativo in un mondo dominato in qualche modo, definito dalla confusione, dalla paura in un mondo che, come non mai, sfida chi ha fede, chi in qualche modo è stato raggiunto dall'avvenimento cristiano a dare ragione della propria speranza. ed è singolare il titolo di questo libro perché si sposa felicemente col tema del meeting la conoscenza è sempre un avvenimento la verità chiede di essere conosciuta perché la verità è avvenimento non è una vaga speculazione astratta, un discorso, una teoria ma è qualcosa che accade, qualcosa che è accaduto e che ha una grande pretesa che sua eminenza fin nelle prime pagine del libro rispondendo a una domanda di Alessandra formula così la proposta cristiana o è fatta in modo tale da far sentire all'uomo e alla donna che incontrando Cristo la loro capacità di amare la loro libertà la loro passione per la vita viene centuplicata oppure il cristianesimo diventa una proposta assolutamente insignificante notate i termini insignificante e inutile si riduce e ci vuole coraggio perché chi sta parlando non è l'ultimo dei battezzati ma è un pastore costituito guida del popolo e quindi le sue parole hanno un peso specifico molto superiore a quello che avrebbe uscendo dalle nostre bocca si riduce a una noiosa predica o una dottrina per eruditi abbiamo ridotto il cristianesimo a pura ideologia morale o sociale una riduzione etica ma quello che dà gioia è l'incontro con una persona che cambia la vita e ti porta a dire quanto sia bello vivere il cristianesimo è stato presentato come qualcosa di estraneo alla vita dice ancora il cardinale ma Pietro e Paolo all'inizio di tutto cosa fecero? si domanda iniziarono a raccontare alle persone che incontravano la possibilità di una vita nuova e migliore non si fermarono a dire in primo luogo quello che si doveva o non si doveva fare parlarono piuttosto di una persona che poteva cambiare loro l'orizzonte della vita Alessandra Borghese è stata in qualche modo strumento occasionato da lei e poi ci racconterà per cui queste riflessioni questi giudizi così acuti sulla situazione in cui ci troviamo e così pieni di promessa di speranza per chi desideri vivere una vita umana dicevo che Alessandra è stata l'occasione per cui questa esperienza del Cardinale potesse diventare parola testimonianza contenuto di un giudizio e di una proposta e allora ben volentieri abbiamo invitato l'autore e la coautrice del libro a raccontarci innanzitutto che cosa è stata l'esperienza usando il titolo del meeting cosa è stato l'avvenimento del loro incontro che ha originato questo questo testo e per questo io crederei subito ad Alessandra di introdurci alle parole di sua eminenza raccontando che avvenimento che esperienza è stato per lei costruire questo libro e come ne è uscita prego allora grazie buongiorno a tutti io devo ringraziare soprattutto su eminenza il Cardinale Carlo Caffarra per essere qui oggi è una sua iniziativa e lo ringrazio immensamente di avermi portato con lui al meeting di Rimini grazie eminenza perché questo libro ovviamente poteva essere necessario sarà necessario alcuni lo troveranno non necessario chi si espone è sempre alla berlinga del giudizio del prossimo io ho cercato il Cardinale Caffarra volevo fare questo libro esclusivamente con lui non cercavo un nome importante della chiesa di oggi da mettere in copertina cercavo un uomo di chiesa pronto coraggioso ad assumere posizioni anche scomode posizioni che il political correctness non vuole ascoltare perché non per provocare non per creare ulteriore confusione ma per cercare di analizzare di comprendere di più di mettersi in ascolto di capire che cos'è la proposta cristiana e di riproporla ancora una volta siamo tutti chiamati a riproporla in maniera semplice il grande sforzo è stato obbligare sua eminenza a scendere a dei piani bassi dove io sono da credente ad usare un linguaggio semplicissimo per arrivare a raggiungere i cuori di più persone possibili certamente studiare essere eruditi l'intelletto la teologia la filosofia sono tutte arti fondamentali per la cultura di una persona ma quello che poi muove è altro è la testimonianza è la vita è il vissuto è quello che è vero quindi la mia esperienza con il cardinale Caffarra è stata un'esperienza simpaticissima se posso definirla perché sua eminenza è un uomo alla mano perché sua eminenza è un uomo vero perché sua eminenza è qualcuno che quando dice qualcosa non se lo rimangia questo nel mondo in cui ci troviamo per me è un fatto degno di nota perché troppo spesso qualcuno dice qualcosa e poi si preoccupa correggiamola mettiamola in quest'altro modo potrebbe essere strumentalizzata chi invece è sicuro di quello che dice di quello che pensa del suo amore per Cristo perché alla fine tutto si basa su questo non ha paura e quindi devo dire che il luogo scelto per questa conversazione è stato qua vicino a Pianoro su delle colline un luogo molto bello tenuto una casa da due suore e marcelline hanno cucinato benissimo abbiamo fatto delle bellissime passeggiate nel parco della Fute e abbiamo parlato 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 o meglio il cardinale ha parlato parlato e io ho scritto 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 raccolto quello che sua eminenza diceva non c'è stata domanda a cui sua eminenza si sia sottratto o che abbia detto no ha risposto a tutto con semplicità con dolcezza con pazienza perché molte volte me l'ha dovuto rispiegare per riuscire a trovare un linguaggio più semplice che potesse arrivare a più persone possibile questo era l'obiettivo dopo la prima stesura abbiamo avuto altre telefonate abbiamo riguardato i testi ci siamo rivisti per me è stata un'esperienza umana e spirituale importantissima nel libro lo ringrazio per questi giorni lo ringrazio per questa grande opportunità io oggi sono qui come ombra del cardinale sono qui al suo seguito sono qui per ascoltarlo ancora una volta credo sia un grande privilegio per tutti noi poter ascoltare un maestro e l'unica cosa che posso dire è che l'esperienza della fede che io ho avuto e che continuo ad avere fortissima fa nascere un grande desiderio di continuare a cercare la verità questo libro è un ennesimo tassello in questa ricerca che continuerà per tutta la vita grazie l'esperienza della fede mette l'entusiasmo la passione per la ricerca della verità cioè per ciò che risponde adeguatamente al desiderio al bisogno del cuore e questo è un altro dei passaggi che mi ha colpito impressionato nelle parole di sua eminenza quando parlando di educazione che lui da tempo identifica come la grande emergenza della nostra società individua in questo il primo fattore educativo educare i giovani a non censurare nessuna domanda perché se quello di cui ci ha parlato Alessandra la proposta cristiana non risponde precisamente alla portata delle esigenze del cuore di ciascuno di noi fallisce nella sua pretesa e è questo che ci ha sempre affascinato del cardinal Caffarra perché ha sempre sottomesso la sua fede alla verifica sperimentale alla verifica della realtà e anche in questo libro quando lo leggerete questo è come una cifra è come la nota dominante di Chopin o come il pensiero dominante di Leopardi mi perdoni il termine ma è quasi un'ossessione che il cristianesimo sia risposta a una domanda che urge il cuore di ciascuno e per questo lo ascoltiamo molto volentieri se non sapesse di trovarmi in mezzo degli amici mi sentirei davvero molto imbarazzato ma so vero mi lega a Savorana un'amicizia ormai che dura da qualche decennio se non sbaglio vero? mi avvicino alla pensione e quindi qualche riflessione così che aiuti coloro che lo vorranno leggere questo libro perché questo è un libro un po' particolare l'iniziativa di scriverlo non è partita da me è partita da Alessandra Borghese è detto anche nel libro un pomeriggio di settembre me la vedo arrivare io ero ospite a Roma presso le suore della natività di Maria Bambina dovendo essere presente ai lavori del consiglio permanente dell'ECEI e Alessandra mi fece questa proposta a cui ho detto di sì ad una condizione però le dissi che domani vada nella cappella borghese Santa Maria Maggiore davanti alla Madonna e ne parli con lei anche vedo un po' che cosa le dice e mi troverò riconfermato nella decisione di fare questo libro Alessandra mi ha promesso che l'avrebbe fatto e credo che l'abbia anche fatto e il libro è uscito perché allora ho accolto subito questa proposta fatta da Alessandra per almeno due ragioni la prima la cosa che mi preme di più il fatto che quando sono diventato prete ho contratto un debito molto forte con ogni persona umana e il debito si chiama Gesù Cristo ho contratto il debito con ogni uomo di parlare di Gesù Cristo con lui di narrare la sua opera ad ogni uomo che incontrassi nella certezza che quando un uomo lo incontra è salvo il libro quindi come mi era stato proposto da Alessandra mi sembra una straordinaria occasione una delle occasioni straordinarie per pagare ancora una volta almeno in parte questo debito che ho contratto con ogni persona umana diventando sacerdote e il libro come ha già detto molto bene Savorana parla di questo parla di Cristo come risposta alle domande più profonde dell'uomo alla domanda come è scritto in un passaggio che la madre che è una madre che ha conosciuto vicino al letto del suo figlio di 15 anni ormai morente di un tumore il cervello disse ma perché ti ho dato la vita il figlio che rispose mamma cosa dici la vita è sempre un dono dicevo dunque la domanda del cuore in fondo quella donna chiedeva ciò che implicitamente aveva chiesto la vedova di Naima che uno le si avvicinasse e le dicesse donna non piangere questo è il grande tema del libro ma ovviamente non si può parlare all'uomo di Gesù Cristo se non si parla della chiesa perché non c'è un altro luogo in cui l'uomo possa incontrare Gesù Cristo non c'è perché chi vuole incontrare Gesù Cristo prescindendo dalla chiesa non lo incontrerà mai ma incontrerà l'idea che lui si è fatto di Gesù Cristo il libro come mi era stato proposto da Alessandra poteva essere l'occasione quindi per parlare della sposa di Cristo di questo ne vedo ogni giorno di più la necessità per quale ragione la ragione l'ho già detta perché fuori dalla chiesa Cristo non lo si incontra e l'uomo che non incontra Cristo è perduto perché dunque il libro parla tanto della chiesa anche perché non ci poniamo di fronte ad esso nel modo giusto vorrei fermarmi un momento su questo punto che attraversa pure il libro per capire la pietà di Michelangelo non chiedo quanto pesa e neppure non ho bisogno di sapere la formula chimica del marmo di cui è fatto la pietà queste domande non sul peso sulla formula chimica non sono adeguate perché sono domande generiche il peso e la composizione chimica sono di tutti i pezzi di marmo ora di fronte ad una scultura di Michelangelo ciò che stupisse non è ciò che essa ha in comune con ogni pezzo di marmo peso e composizione chimica ma ciò che ha assolutamente di unico quello di incorporare ed esprimere un grandioso evento spirituale l'ispirazione artistica così per conoscere l'intima verità della Chiesa non si deve considerare il generico ciò vale a dire che la accomuna nel bene e nel male con altre comunità umane la Chiesa infatti si presenta esibendo all'uomo una singolarità unica che ovviamente l'uomo può accettare o rifiutare ma che chiede di essere riconosciuta per ciò che è ecco perché nel libro si parla molto della Chiesa perché la Chiesa è la presenza di Cristo in mezzo a noi e purtroppo oggi molti che discutono di teologia di catechesi hanno una tale sottiglienza e scaltrezza di linguaggio da poter coniare innumerevoli espressioni e giri di frasi che lasciano costantemente incerti il lettore e anche i fedeli su ciò che è il punto fondamentale se Gesù Cristo sia vivente oggi fra noi come persona unica irrepetibile singolare e quindi se posso incontrarlo non solo il suo insegnamento sapere il suo insegnamento incontrare lui vivente il secondo grande tema è del libro quindi la prima ragione per cui il libro è stato scritto ve l'ho detta un debito da pagare parlare di Cristo e quindi parlare della Chiesa perché nessuno pensi che quando parliamo di Cristo noi parliamo di un morto nel libro è narrato un fatto molto singolare molto molto bello durante una visita pastorale durante il catechismo che faccio sempre nelle visite pastorali ai bambini un bambino si alzò e mi disse ma senti cardinale ma come faccio a essere amico con uno che è morto tendeva a dire Gesù Cristo e senza darmi tempo di rispondere si alzò un'altra bambina e disse ma Gesù non è morto dice solamente è risorto dice ed è qui in mezzo a noi e là nel tabernacolo eravamo in chiesa ecco perché dice noi lo possiamo incontrare perché è vivo disse questa bambina ecco la prima ragione per cui ho scritto il libro ma anche esiste una seconda ragione che mi spinse con non minore forza ad accogliere la proposta di Alessandra la sfida terribile cui oggi assistiamo terribile della tanquam si deus non daretur e cioè per la prima volta nella sua storia l'uomo ha tentato e sta tentando di edificare la sua umanità quindi il suo matrimonio e la sua famiglia la sua città la sua economia e l'organizzazione del suo lavoro appunto appunto la sua umanità come se Dio non ci fosse con l'umanum Dio non c'entra e non deve entrarci questo è il più drammatico evento che sia accaduto nella storia della umanità e questo fatto nasce se non vado errato dalla decisione dalla decisione che l'uomo ha preso di non demandare la propria salvezza a nessun altro all'infuori che a se stesso Kierkegaard chiamava questa decisione la disperazione per ostinazione una sorta di disperazione come a dire io devo salvare me stesso a me è affidata la salvezza di me stesso e a nessun altro che all'infuori di me questo non era mai accaduto nella storia dell'umanità nel libro dico che questo fatto mi ha sempre accompagnato me ne leggo alcune righe il problema ultimo il problema la domanda radicale che ha accompagnato il mio sacerdozio fin dagli inizi è sempre stata ma perché ci sono uomini che liberamente respingono Dio e la sua proposta di amore in una parola l'ateismo non ha mai cessato di tormentarmi non l'ateismo come ipotesi teorica ma l'ateismo che attraversa il nostro mondo occidentale nel senso che dicevo prima i più grandi santi i due più grandi santi del ventesimo secolo madre Teresa e padre Pio sono passati attraverso le sue fiamme e descrivono questa traversata in pagine sconvolgenti e con questo tema trattando di questo tema siamo entrati siamo entrati dentro proprio al nodo più problematico della condizione dell'uomo dell'uomo di oggi quindi il libro ecco è attraversato del grande tema della presenza di Cristo in mezzo a noi come risposta adeguata alle domande del cuore dell'uomo la presenza di Cristo che è la Chiesa e ecco l'altro grande tema che attraversa il libro questa condizione drammatica prima parlavo prima dicevo questa condizione di disperazione in cui versa l'uomo di oggi e questo parlando di questa condizione inevitabilmente il libro non poteva non parlare dei grandi temi del vissuto umano il tema dell'educazione è già stato detto da Savorana il tema della sessualità e del matrimonio il tema dell'arte e così via ma se vorrete leggere il libro vedrete che c'è una cosa un po' singolare che il tema di cui materialmente il libro tratta più frequentemente è il tema della liturgia il tema della liturgia come mai cosa c'entra la liturgia con tutto quello che abbiamo detto fino adesso recentemente il professore Esposito nel sito il sussidiario ha richiamato l'attenzione su un testo di Virginia Wolf che anche a me ha fatto molto riflettere Virginia Wolf parlava di momenti di essere di cui sono fatte le nostre giornate ma che però sono cito racchiusi in momenti di non essere molto più numerosi come se il bene della realtà fosse avvolto in una sorta di ovatta senza contorni cioè dalla insensatezza e dalla mancanza di soddisfazione e la scrittrice continua dicendo che è solo per una scossa violenta cioè grazie a dei momenti eccezionali che può aprirsi uno squarcio in quello vatta e le cose farsi trasparenti cioè diventare reali di qui continuo a citare dalla wolf di qui nasce potrei dire una filosofia o comunque un'idea che ho sempre avuto che dentro l'ovatta si cieli un disegno che noi tutti noi esseri umani rientriamo nel disegno che il mondo intero è un'opera d'arte che noi siamo parti di quest'opera d'arte così Virginia vuole ciò di cui si parla qui è se esiste o meno la possibilità di una presenza Cartesio direbbe di toccare l'infinito toccarlo perché questo in fondo è lo struggente bisogno dell'uomo di oggi esistono dei fatti ripeto e sottolineo dei fatti non delle dottrine che donano all'uomo questa possibilità di toccare l'infinito nel libro scrivo che a me è stato data questa possibilità che non cessava di stupirmi ogni volta che incontravo Giovanni Paolo II gli spiego il perché i fatti che donano all'uomo questa possibilità di intravedere dentro all'ovatta direbbe la una presenza sono i santi i fatti che rendono possibile di intravedere questa presenza sono i più grandi momenti della vita consentitemi se riesco a trovarlo di leggere un testo quando ero arcivesco di Ferrara avevo l'abitudine di ricevere le coppie di fidanzati prima del matrimonio li incontravo uno ad uno lei sa dico ad Alessandra quale era la domanda ricorrente dopo un primo approccio di convenevoli no dice lei mi dica quale era continuo ma è possibile per un uomo e una donna amarsi per tutta la vita senza stancarsi l'uno dell'altro pur non intendendome ne molto rispondevo non credo che sia umanamente possibile eppure l'amore è uno dei fondamentali vissuti dell'essere umano un bisogno un desiderio innato perché quindi quei ragazzi mi ponevano quella domanda credo che volessero che la fine di quel loro amore non avvenisse mai speravano in fondo al loro cuore che una potenza li affrancasse dalla fragilità della loro libertà principale obiezione in quel momento al loro desiderio più vivo come vede non solo quando camminiamo per valli oscure ci si interroga sul significato autentico della vita ma anche di fronte alla realizzazione del più intimo desiderio che dimora nel cuore umano amare ed essere amati ma accidente brutto segno quando uno non è più capace di controllare le proprie emozioni vuol dire che sei vecchio grazie grazie oppure che ha raggiunto la maturità del cuore io ho vissuto l'esperienza della commozione che Don Giussani a 80 anni provava per la realtà e per la figura di Cristo che non aveva nulla di sentimentale ma era come un fiorire dal cuore di una pienezza di umanità quindi buona compagnia grazie allora e concludo ormai dicevo ma è possibile non è possibile intravedere questa presenza del mistero è possibile anche a questo uomo che sta tentando di costruire l'edificio dell'umanum prescindendo da Dio di toccare l'infinito e ho detto infatti ci sono sono i santi sono i momenti più grandi della vita come quelli dei due dei ragazzi che si sposano ma ecco è soprattutto la grande liturgia della Chiesa il fatto che mi rende presente il mistero nel vissuto umano la liturgia è il mistero che diventa visibile ed è di questa visibilità che l'uomo di oggi ha soprattutto bisogno grazie grazie io non vorrei perdere l'occasione di avere qui su eminenza e Alessandro mi perdonerà però è troppo ghiotta l'occasione per fargli commentare il titolo del meeting di quest'anno su cui credo che abbia ma già il nesso lo abbiamo sentito nella testimonianza che ci ha offerto ma mi piacerebbe sentire una sua reazione alle parole che definiscono il tema che abbiamo scelto per questo meeting la conoscenza e l'avvenimento molto volentieri intanto parto dai due termini che fanno il tema del meeting di quest'anno conoscenza e avvenimento il secondo parto dal secondo avvenimento voi sapete che era la categoria centrale di cui Don Luigi Giussani si serviva per dire cos'è il cristianesimo per dire che l'esperienza cristiana è un incontro prima ancora di essere l'apprendimento di una dottrina o la fedeltà ad un codice etico è un incontro cioè è un è un avvenimento nel libro io dico che uno dei più grandi che io reputo uno dei più grandi scrittori del secolo scorso sia Giovannino Guareschi perché dico che prende una piccola un piccolo segmento appunto il mondo piccolo non lo chiama di umanità e lo fa sorgere a narrazione completa del vissuto del umano e questa è un'operazione che riesce solo ai grandi artisti se non vado errato prima di lui è riuscita questa operazione solo a Manzoni siamo quelli belli per me comunque dunque c'è un racconto bellissimo in mondo piccolo che secondo me spiega proprio bene la la conoscenza è un avvenimento arriva nel paese un pittore si mette mette il cavalletto sulla strada e comincia a dipingere un vecchio fienile cadente passa peppone si ferma e guarda attentamente il lavoro che sta facendo dopo avere guardato attentamente conclude ma guarda ero una vita che vedevo quel fienile non mi ero mai accorto che fosse così bello la conoscenza è un avvenimento l'incontro con Cristo l'avvenimento diventa luce che ti fa conoscere la realtà in un modo nuovo e la realtà che cosa è la realtà è il nostro lavoro la realtà è nostra moglie è nostro marito sono i nostri bambini la realtà è la malattia magari in cui siamo caduti ecco avviene l'avvenimento avviene qualcosa che ti fa conoscere che ti fa vedere la realtà non mi ero mai accorto dice Peppone che quel vecchio finire fosse così bello quando questo non accadesse lo dico tante volte nel libro fino alla noia inevitabilmente la proposta cristiana diventa una predica non noiosa ma noiosissima che non dice più niente a nessuno grazie Don Giussani dice che l'esperienza non è un semplice provare non è un semplice susseguirsi di impatti della realtà su di noi ma dice lui precisamente è vivere ciò che mi fa crescere io sono molto grato a sua eminenza e ad Alessandra Borghese senza la quale non sarebbe nato il libro e noi non saremo qui oggi a parlarne perché nella testimonianza che ci ha offerto io ho visto accadere riaccadere il compiersi di quello che lei ha definito lo struggente desiderio di toccare l'infinito domandandosi ma esistono adesso perché io sto vivendo adesso non duemila anni fa dei fatti che lo consentono oggi dalle sue parole io ho visto rivivere questa opportunità fino alla commozione perché è come la commozione di Gesù per il fiorellino del campo o per l'amico Lazzaro tutto a lui parlava del padre e del mistero che traspariva traluceva in tutte le cose e io la ringrazio tantissimo perché lei oggi ci ha dato uno strumento un'arma ulteriore per poter rispondere con ragione con consapevolezza al grande interrogativo che Dostoievski si poneva all'inizio dell'epoca moderna contemporanea ma può un uomo colto del nostro tempo può un occidentale può ciascuno di noi credere alla divinità di Cristo come lei diceva posso riconoscerlo come contemporaneo alla mia vita e lei ci ha suggerito anche la strada lo ha detto e lo ha scritto il metodo della proposta cristiana è generato dal suo contenuto Dio ha tanto amato l'uomo da mandare suo figlio in carne e ossa perché chi crede in lui abbia la vita eterna l'unico modo per rendersi conto di questo fatto è attraverso un incontro la proposta cristiana ha un solo metodo la testimonianza cioè ciò che di più apparentemente effimero ciò che di più apparentemente fragile esista di fronte alle sfide del mondo ai grandi temi con cui l'umanità contemporanea si deve parlare che cos'è la testimonianza di un uomo di fronte al dramma del mondo è un niente eppure è l'inizio di una novità non semplicemente detta come discorso come teoria ma come testimonianza che qualcosa è stato sottratto alla disperazione al nulla e rifiorisce e rivive per questo le siamo molto grati credo che tanti siano desiderosi incuriositi dalla lettura del dialogo che avete avuto perché noi abbiamo bisogno di testimoni così come il mito in cerca come può di essere un grande spazio per questa reciproca testimonianza perché noi abbiamo bisogno di vedere oggi la possibilità che riaccada quello che duemila anni fa era un giovane uomo che attraversava le strade polverose della Palestina e dalla cui morte e resurrezione come dice la bambina è iniziato un flusso di vita che è arrivato fino a noi questa mattina per questo grazie ad Alessandra e grazie a sua eminenza grazie a tutti